allora visto che oggi mangiamo in campagna prendo un pochino di legna prendo il fuoco poi vado a raccogliere l'arrivo ecco questi pezzetti che stanno già qua tutti i pelli tagliuzzati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti andiamo ad raccogliere le verdure faccio un misto liscio grazie a tutti 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 grazie a tutti